Si chiamava Maria Sunshine Kugel, era una bellissima ragazza di 28 anni di età e purtroppo non c'è più. Di lavoro faceva la modella, immaginate quanto poteva essere bella, affascinante e sexy la fanciulla in questione. Si trovava insieme al pilota nello schianto che purtroppo si è andato a verificare. Infatti non è morta solo lei, ma anche il pilota di nome Eric sarebbe scomparso, sarebbe morto. La notizia ci giunge oggi dal web, da internet, l'incidente si sarebbe verificato in aprile in Arizona in un campo da Gregorff. Una storia che in qualche maniera ci induce a capire fino a che punto può essere considerata la vita. Ma soprattutto come la vita sia un fuscello, meglio come siamo, attaccati ad essa ma al tempo stesso come siamo terribilmente fragili quando quel colpo di vento ci arriva e non ce lo aspettiamo oppure non ci pensiamo. La ragazza era bella, era sexy, era affascinante, aveva tutta una vita davanti a sé grazie a questi soli 28 anni di età. Eppure non ce l'ha fatta, è morta. Un tragico schianto ed ecco che la fanciulla non c'è più. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione. Maria Assange Cougar, riposi in pace. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto.